Eccoci qui a preparare un sacchetto gadget per una festa di compleanno di una bimba che compierà un anno. Abbiamo fatto dei biscotti in pasta frolla e degli amaretti, abbiamo preso una bustina di plastica per alimenti, un nastrino lilla, tema della festa, e una di calcomania fatta a computer e poi stampata su carta adesiva, e con forbici e spillatrice realizzeremo il nostro sacchetto. Apriamo bene il sacchetto, con il sacchetto andiamo ad adagiare i biscotti facendo attenzione a non romperli, gli amaretti sono molto fragili quindi bisogna fare con delicatezza, i nostri cagottini con la marmellata, gli orzetti con le scaglie di cioccolato e il cuoricino. Pieghiamo la busta fino a fare, innanzitutto togliamo l'aria, col poco che riusciamo a togliere, la pieghiamo su se stessa e creiamo un bordo, poniamo la spilletta, la prima spilletta al centro di questo bordo, arrotoliamo il nastro lilla sulle nostre dita in questa maniera, lo passiamo dentro e realizziamo il fiocco che andremo poi ad appuntare sul fiocco che andremo ad agganciare al sacchetto, per non far vedere le spillette, spillatelo all'interno, uno e un altro qui, ecco qui, facendo in modo che la spilletta non venga vista, ecco qua, da quest'altro lato tagliamo la decalcomania, andiamo ad attaccare, ed ecco ho realizzato un sacchetto, fronte e retro, contatto di fiocco, se volete rendere poi simili i due nastrini, basta soltanto andare con la forbice e tagliare con un taglionetto preciso, ecco qui, il sacchetto è pronto!